Visita di Casa Pound all'aeroporto di Tassignano. C'erano tra gli altri il candidato alle elezioni europee, il generale in congedo Sergio Fucito, che proprio qui ha eseguito i suoi primi lanci da paracadutista, e il candidato a sindaco Daniele Boschi. Fucito, candidato nella circoscrizione centro, ha sottolineato come Casa Pound voglia l'uscita dell'Italia da questa Europa. Questa Europa è stata costruita ad imbagine e somiglianza dei banchieri, dei banchieri che hanno come unico obiettivo di depredare questa Europa grazie alla moneta debito euro. Noi vogliamo riprenderci il controllo della nostra nazione, vogliamo la sovranità nazionale, amiamo l'Europa e vogliamo creare in prospettiva un'Europa, ma l'Europa nostra sarà l'Europa dei popoli, non certo l'Europa dei banchieri. Da parte sua Boschi ha invece indicato l'aeroporto di Tassignano come esempio di cattiva amministrazione, accusando di ciò non solo la giunta Menesini, ma anche l'opposizione in consiglio comunale. L'appello quindi è rivolto a tutti i capannoresi perché aprono finalmente gli occhi e vedano veramente come sono stati amministrati e soprattutto vedano come chi ha potuto amministrarli così male, lo ha fatto anche perché non c'era in consiglio comunale nessuno a controllare. Ecco perché Casa Pound si candida a Capannori.